Musica Viaggio nel maltempo, case allagate e famiglie sott'acqua nel Bassanese Carainati in ondata, intanto la seconda D vince il primo premio ARPAB sui cambiamenti climatici Il surfista del Brenta è tornato, lo abbiamo intervistato fra sorrisi e sfide controcorrente Bilancio positivo per Confcommercio Bassano, obiettivo rivitalizzare il centro storico Donne per le donne, domenica la terza edizione della camminata in rosa con Elios Onlus La natura insegna, premiate da Etra, le scuole vincitrici del concorso Al via il giugno Antoniano all'insegna del santo come uomo di pace Il Bassano cambia presidente Baggio Lascia ma resta nel CDA vicino l'addio anche di Finco Un cordiale buonasera a tutti voi telespettatori Ben ritrovati al nostro consueto appuntamento dedicato all'informazione di Bassano e dintorni Apriamo il nostro Tg parlando del maltempo Maltempo che ha messo in ginocchio diverse zone del Bassanese Case allagate a Romano Dezzelino e Mussolente Come si sente oggi? Sfinito Non voglio più voglia da camminare Non voglio più forza neanche da camminare perché ho messo l'acqua ieri e ho la schiena in tocchi 91 anni Uno shock Non so, grande Grande o carica, grande o carica, poi bisogna provare per vedere Pietro Gnesotto vive nella sua casa di via Marze a Romano Dezzelino da 45 anni L'acqua del Mar Dignone li ha colti di sorpresa, non era mai capitato, è entrata con violenza da queste finestre Inondando il piano interrato in pochi minuti Anche l'abitazione di Flavio Bordignone è devastata, l'acqua ha superato abbondantemente il metro di altezza Queste famiglie chiedono che il Mar Dignone venga messo in sicurezza quanto prima Intanto davanti ai cancelli rimangono i sacchi di sabbia e i pannelli È tanta la paura visto quanto è capitato nell'ultima settimana Come al solito si aspetta sempre che succeda qualcosa prima di fare, di mettere Non so, scarica barili tra uno e l'altro, diciamo, tra il consorzio piuttosto che il comune Non lo so Capire perché i nostri bacini, come quello di fianco al quale ci troviamo Non sono stati in grado di reggere l'urto dell'onda d'acqua Qui bisogna fare dei ragionamenti non solo sull'emergenza, quindi ad esempio innalzamento, argini O comunque la polizia ordinaria degli alvei, dei torrenti che è avvenuta Ma anche a livello strutturale Da Romano Dezzelino ci spostiamo a Mussolente A Casoni, ieri pomeriggio, si sono allagate le vie General Giardino, Verdi e Madonna della Salute Rimaste chiuse al traffico per molte ore Qui incontriamo Manuel Nicoli, la forza dell'acqua esondata da questo canale, oggi vuoto Ha sfondato la finestra della lavanderia Non si poteva fare niente, anche i pompieri che sono arrivati, anche velocemente Pompieri di protezione civile, che ringrazio, anche perché ci hanno dato una mano Anche loro hanno detto che non possiamo fare niente fino a che continuano a sfogare Infatti hanno prima chiuso in cima dove era straripato E dopo si è riusciti con un po' di sacchi di sabbia a creare questa sorta di isoletta Per smettere che venga giù e continuiamo a uscire solo da noi Perché poi rischiavi di allagare anche gli altri garage Adesso ci spostiamo a Marostica dove si sono verificate numerose frane Situazione critica a Crosara e San Luca Le colline di Marostica franano La situazione nelle ultime ore è peggiorata ed è critica I terreni inzuppati scivolano pericolosamente verso valle A Crosara si registrano diversi smottamenti Nel centro di Crosara abbiamo degli smottamenti multipli Nei tratti dietro di fatto l'abitato Che vanno a interessare poi la valle Con il possibile intasamento dello scarico sotto Di fatto quello che è il centro abitato di Crosara Sotto il parcheggio del centro della frazione Stiamo capendo con la regione E con i tecnici di posizione civile Come fare per andare a rivolgere nel tempo più veloce possibile il materiale In questo momento è anche difficoltoso Perché tutti i mezzi pesanti sono impegnati nei comuni dove si sono rotti gli argini Altra situazione difficile nella frazione Di San Luca Poco prima del ponte da San Luca verso Crosara C'è stato uno smottamento del manto d'asfalto E anche in mezzo al bosco si vedono le curve di crepatura Del cedimento del fronte collina Si sviluppa per quasi una sessantina di metri in larghezza E per 150 in profondità giù per la valle Abbiamo due frani importanti in via Valeria La zona di Pradipaldo Le abbiamo in direzione Vallonara Stiamo monitorando tutto E naturalmente cercando di rimuovere il materiale per mettere in sicurezza Ieri sera alle 11 ci hanno segnalato anche una frana nei pressi del castello superiore E quindi anche lì adesso dovremo monitorare E fra le storie di questa ondata di maltempo Uno spazio speciale solo merita un surfista austriaco di 31 anni Che ha sfidato la corrente del Brenta ed è diventato virale Vi ricordate Surfing USA dei Beach Boys? Cambiamo la location e spostiamoci sul Brenta Ed ecco la nuova hit di Sebastian 31enne austriaco che si è avventurato nel river surfing all'altezza del Ponte Nuovo Una performance che ha diviso l'opinione pubblica Ma che è diventata virale sui social Ero di rientro dal Marocco Stavo tornando a Graz Quando ho visto la situazione dei fiumi E devo dire ho voluto approfittarne Quindi sono venuto qui grazie a Google Maps Per fare surf sul fiume Cosa provi mentre fai surf sul fiume? È una situazione difficile da descrivere È come volare, mi sento libero sulla tavola da surf È pericoloso surfare sul fiume? In realtà sì, la corrente è forte e rischi di essere trascinato appunto dalla corrente Però se affronti la cosa da un punto di vista mentale Se sei forte come mentalità Riesci sicuramente a farcela Bisogna avere relax e mente libera Un saluto e poi di nuovo in acqua A sfidare la corrente col sorriso di chi sulla tavola da surf Porta in giro per il mondo la spensieratezza Un comportamento da non imitare Lo dicevamo, ha diviso un po' l'opinione pubblica Ma resta sicuramente questa una delle cartoline Di questo maltempo che ha portato tanti disagi Tanti problemi E questo piccolo momento di spensieratezza Adesso restiamo a parlare di maltempo Ci spostiamo a San Zenone degli Ezzelini In ginocchio ancora la zona di Carainati San Zenone, soprattutto la frazione di Carainati Accusa un nuovo colpo Dato dall'ondata di maltempo delle scorse ore Strade allagate, canali esondati Piani interrati delle abitazioni Sott'acqua Una furia inaudita come ci conferma il sindaco Marin Proprio a ridosso del bacino di contenimento di via Marini C'era davvero paura Questo è uno dei tre bacini che abbiamo nel nostro territorio Che raccolgono le acque Che arrivano logicamente dalla zona nord Ieri però questo era pieno E nella zona dove dovrebbe fermarsi l'acqua Ed effluire pian piano Purtroppo è sfiorata Quindi l'acqua è fuori uscita Ed era davvero un fiume in piena E quindi le strade purtroppo di Carainati Si sono nuovamente trasformate in fiumi Come è successo giovedì nella serata di giovedì Si sono di nuovo allagati i sottopassi Quelli insomma della pedemontana Siamo riusciti poi ieri sera Insomma con tutta la forza della protezione civile A liberarli E quindi a far poi anche passare il traffico delle macchine Ennesima conferma dei cambiamenti climatici Che stanno portando forti disagi E che sono avvertiti soprattutto dai più giovani L'esempio è la seconda D della scuola media di San Zenone Che si è giudicata il primo premio Nel concorso proposto da Arpav Incentrato proprio sui cambiamenti climatici Noi cerchiamo di mettere continuamente Questi germi di sensibilità Nei confronti di competenze trasversali Di salvaguarda del proprio territorio In questi ragazzi che poi sono loro Che gestiranno il nostro domani C'è da dire che i ragazzi non sono riusciti Ad andare a ritirare il premio Perché proprio ieri le scuole Erano chiuse per emergenza maltempo Esatto Ha provveduto su delega la professoressa Perché l'Arpav ci seneva moltissimo alla partecipazione Tant'è che la comunicazione della graduatoria dei vincitori Non la sapevamo È stata comunicata proprio ieri In diretta praticamente alla premiazione Lo scopo del gioco finale era Trasformare gli ambienti inquinati in ambienti puliti Tra l'altro questo gioco è stato È piaciuto così tanto Che ha deciso di Beh probabilmente Se sarà possibile Vorrebbero ristamparlo Magari farlo diventare un gioco per le scuole Torniamo a Bassano del Grappa Perché Forza Italia invoca un cambio di passo Per quello che riguarda l'organizzazione Dell'ospedale San Bassiano Un cambio di passo sull'ospedale di Bassano Lo chiedono i cittadini Lo abbiamo raccontato noi Dando voce a centinaia di segnalazioni Messe nero su bianco con migliaia di firme Adesso questo cambio di passo Che significa mettere mano alle liste d'attesa Ai problemi con le prenotazioni Con l'organizzazione e la programmazione Lo chiede Forza Italia In un comunicato col quale sottolinea Una programmazione non sempre lungimirante Nei confronti della crescita Della struttura dell'ospedale di Bassano Con situazioni di disagio per gli utenti Costretti talvolta a spostamenti Non sempre agevoli Specialmente per le persone più fragili Spinti talvolta a ricorrere al privato Per un accertamento Forza Italia ritiene Che un cambiamento di passo Debba essere fatto anche nei confronti Del nostro ospedale Siamo consapevoli del grande lavoro Che quotidianamente tutto il personale Medico, infermieristico e amministrativo fa Però riteniamo che l'ospedale di Bassano Debba ritornare ad essere Dal punto di vista qualitativo E dell'eccellenza Un punto di riferimento Per tutto il nostro territorio In modo da dare risposte adeguate Alle molteplici necessità degli utenti oggi Una centralità territoriale Quella di Bassano Così strategica Che rimarcano gli esponenti di Forza Italia Necessita di una politica amministrativa Che abbia la forza Di ridare al San Bassano Quella eccellenza operativa E quella lungimirante organizzazione Che l'ha contraddistinto in passato Insomma, da subito La nuova amministrazione Concludono Dovrà avere la capacità Di relazionarsi Con ULS e Regione Per trovare soluzioni Alle tante criticità Nella pagina della politica Spazio alla democrazia cristiana Che parla di una Bassano Che in questi anni Ha perso peso politico Alle prossime elezioni comunali La democrazia cristiana Si presenterà Con una propria lista A sostegno del candidato sindaco Nicola Finco Nei cartelloni elettorali Compare uno slogan impegnativo La storia siete voi Il perché Ce lo spiega Giovanni Battista Sandonà Capogruppo della DC Bassanese Al centro di ogni evento pubblico Ivi compreso Un'elezione amministrativa C'è la popolazione che vota C'è il corpo della città Senza il quale Noi non siamo D'accordo? Per cui La prima cosa È dire a questo corpo elettorale A questa comunità Rifatevi comunità Venite a votare Noi vogliamo dialogare con voi Vogliamo incontrarvi Vogliamo parlarvi delle nostre idee Sulla questione di una Bassano Che in questi cinque anni Avrebbe perso peso politico E occasioni Ecco cosa ne pensa Dei treni sono stati ai miei persi È vero c'è stato il covid Però c'è stato anche il PNRR E sappiamo tutti Al di là di quel che viene detto Che i fondi portati a casa da Bassano Ammontano molto meno Di altri comuni Assai più piccoli del comprensorio Si poteva anche qui Cominciare a fare comprensorio Cominciare a Disodare la ricerca di fondi Che sarà una priorità per noi Bisognerà che ci sia Un ufficio Che si dedica Solo a queste Campagna elettorale Bassanese Che noi vi raccontiamo Passo dopo passo Sera dopo sera E che sta entrando Veramente in quella che è La fase decisiva Calda in vista Dell'appuntamento Con le urne E adesso Restiamo a Bassano Ma cambiamo decisamente Argomento Parliamo della Confcommercio Tracciato il bilancio Un bilancio positivo L'obiettivo però è Rivitalizzare il centro storico Un comparto in crescita Che si è scrollato di dosso Il ricordo del covid E che guarda al futuro Con l'ottimismo Di un presente Che vede l'impegno Di tanti giovani imprenditori La nascita di start up Il consolidamento Delle aziende storiche E l'idea di rivitalizzare Il centro di Bassano L'assemblea sociale Di Confcommercio Ha tracciato e approvato Un bilancio positivo Rinforzando i binari Su cui la locomotiva Del turismo E della rete intercomunale Deve correre veloce I punti focali Per noi Sono la burocrazia La rete E il turismo Quando noi diciamo Rete Vogliamo che Finalmente Tutte le amministrazioni Comunali Prossime Abiano la possibilità Di lavorare insieme Per portare avanti Degli obiettivi comuni Per quanto riguarda Il turismo Per noi È un punto fondamentale Che ormai da anni Lo spingiamo Vogliamo che il turismo Sia Il punto fondamentale Di questa economia Del territorio Ma deve essere accompagnato Da una burocrazia Che non ci uccide Stiamo sviluppando Nuove idee Per quello che mi riguarda In particolare Legata al turismo Che come sappiamo Lo consideriamo Una leva fondamentale Per l'economia E per le nostre attività C'è un'apertura Verso nuove forme Una ricerca Appunto Di un nuovo tipo Di vendita Di un nuovo tipo Di commercio E quindi L'integrazione Tra la generazione Diciamo Quella passata Tra virgolette O comunque Di esperienza Forse è meglio Definirla così Con le nuove generazioni Con queste idee nuove Con queste dinamiche Obiettivo principale Resta Ridare vita Alle attività Del centro storico Troppe Le oltre 120 vetrine Buie In città Non è bello Vedere il centro storico Che Si è un po' Desertificato Abbiamo preparato Alcuni progetti Li stiamo proponendo Alle amministrazioni Cambiamo argomento Appuntamento domenica Con la camminata In rosa Un evento Promosso Da Elios Onlus Terza edizione Domenica prossima 26 maggio Della camminata In rosa Organizzata Dal gruppo Donne per le donne Dell'associazione Elios Onlus Si tratta di una Passeggiata ludico-motoria Dedicata alla salute E al benessere L'evento Si propone Di sensibilizzare Sull'importanza Del movimento fisico Di uno stile Di uno stile di vita sano E di una corretta alimentazione Il ritrovo è fissato Per le 8.30 All'ex club Evans Di Contra San Giorgio A Bassano Partenza Alle 9.30 Per un percorso Di 6 km Tra le colline E lungo il Brenta È gradita La conferma Di partecipazione Nel sito www.eliosonlus.org Adesso Lo sport Ci sono novità Importanti Che riguardano Il Bassano Il K.O. Nella finale Play-off Non macchia Una stagione Da 10 in pagella Per il Bassano Essere passati Da una salvezza Difficile A un piazzamento Nelle zone Nobili Della classifica È di per sé Una grande vittoria Del gruppo Ma Adesso? L'argomento caldo Tra i tifosi Riguarda Il futuro Del club Mancherebbe Solo l'ufficialità Per l'uscita Di scena Da presidente Di Francesco Baggio Che rimarrà Nel CDA Insieme a lui Sembra Allontanarsi Anche la permanenza Del direttore Generale Antonio Finco La situazione È semplice Perché Prima c'è un CDA Che deve Deliberare Sicuramente Alcune cose Riguardo Sia l'aspetto Finanziario Che Comunque vado Sottolineare È stato Anche quello Molto buono Nomi usciti In questi giorni Sono nomi Buttati lì Ma che non Hanno nessun senso Di esistere Io devo dire Che prima di tutto Baggio L'ha già detto Rimarrà sicuramente Nel CDA Quanto riguarda Il ruolo di presidenza Lo sceglieranno i soci Ne parleranno i soci Ma non è così importante Tra l'altro Baggio Voglio ricordare Non è che si è proposto Lui l'anno scorso È stato chiamato Proprio dai soci Dunque chi sarà Il prossimo presidente Giallorosso Tutto lascia presupporre Che la carica Verrà ricoperta Da Lara Bertoncello Figlia di Gian Antonio Per la parte sportiva Si punta Alla riconferma Del tecnico Alessandro Pontarollo E del DS Francesco Sacchetto E per quanto riguarda I giovani Se posso dire C'è una grande incongruenza Ancora Quello sì Nel fatto che ci siano Due società Nel Bassano Cioè L'FC Bassano Con la prima squadra Juniore Se poi un settore giovanile Che è un'altra società Ecco Da questo punto di vista Bisogna crescere molto Perché serve Molta più collaborazione Tra le due società E la fusione Secondo me L'avevamo già proposta Nel CDA Più volte Assolutamente necessaria Per creare i presupposti Per avere una società Comunque unica Quasi duemila Gli studenti Coinvolti Anche quest'anno Nel progetto Di educazione ambientale Dietra Palude di Onara In festa Per la giornata Dedicata Alla premiazione Del concorso La natura insegna 2023-2024 Alle scuole vincitrici Premi in denaro Tre cinquecento E settecento euro Grande la creatività Sviluppata da ragazzi E bambini Con progetti All'insegna Della lotta Ogni tipo di spreco A partire dal cibo Come ci spiegano I giovanissimi studenti Di seconda B Dell'istituto comprensivo Di Limena Che hanno prodotto Un video menù Le carote Le bucce di carote Magari si possono fare Delle chips Da mangiare Magari Prima del Del pranzo Oppure Il bollito Si può usare Per fare delle polpette Insieme al pane vecchio E Poi abbiamo fatto Anche una I ricetti De sparaci Abbiamo creato Un menù Che includa Primo Secondo Antipasto E dolce Eccole le ricette Realizzate in squadra Con la collaborazione Dei genitori Non solo Ridotto lo spreco Spiega Lucia Anche a casa Io non mangio Tante carote Non sono quella persona Che mangia Tante verdure Quindi non ho mai Proprio Menta idea Di usare Le carote In altro modo Però Con appunto Rendere delle chips Si ha anche Reso un attimo Più gustose Le carote E me le ha fatte mangiare Lo spreco del cibo Non è mai una cosa giusta E quindi appunto Abbiamo imparato A sprecare Il meno possibile Perché appunto Il cibo è risorsa E quindi Cioè Meno ne sprechiamo Meglio è 33.000 Gli studenti Coinvolti Nel progetto Di Etra Academy 1950 Gli interventi Degli educatori ambientali Nelle scuole I temi sono sempre Raccolta differenziata Migliorarla E ridurre la quantità Del secco Per aumentare Le percentuali E riduzione Dei consumi idrici Quindi risparmio idrico E nello stesso tempo Valorizzazione Della risorsa idrica Far capire a tutti Che l'acqua È letteralmente L'oro blu E dobbiamo preservarlo Con tutti i modi possibili In più Ad esempio Aggiungiamo ogni tanto Qualche novità Come laboratori Sulla biodiversità Quest'anno abbiamo costruito Insieme ai ragazzi Delle casette Antoniano La figura del frate Affaticato dalla malattia Ma che tenacemente Affronta il tiranno È l'immagine scelta Per questa edizione Del giugno Antoniano In un tempo In cui la guerra Affligge molte zone Del mondo Che sembra essere sorde I messaggi di pace Lanciati anche da Papa Francesco Nella sua ultima visita In Veneto a Verona La figura di Sant'Antonio Che in fi di vita Affronta il tiranno Ezzelino È lo spunto di riflessione Che accompagnerà i fedeli Durante il mese Antoniano Con eventi che culmineranno Con la festa del 13 giugno A centro Sempre il tema Della pace Ci sarà questa riflessione Anche attraverso Un pellegrinaggio Il primo di giugno Che vedrà toccare I tre luoghi Antoniani Per eccellenza Campo San Piero Santuario dell'Arcella Infine appunto La Basilica del Santo Quindi aniliamo alla pace Attraverso il cammino Attraverso la nostra preghiera E anche attraverso La riflessione Poi ci sono altre forme Di violenza Su cui vorremmo Concentrarci Guardando proprio ad Antonio Che ci invita A superarle Per esempio Il tema della violenza Contro le donne Su cui ci metteremo In ascolto Anche attraverso Proprio l'immagine Di Sant'Antonio Che tante volte Ha preso Le difese di donne Bistrattate All'interno Delle loro case In tutto ci saranno 25 eventi culturali Una ventina spirituali Dal 24 maggio Al 27 giugno Non mancherà Il transito del santo Il 12 giugno Il 21 giugno Il concerto Testimonianza Della band Christian Rock Reale Sul Sagrato del Santo Il finale Spetterà i solisti veneti Che si esibiranno In Basilica Il 27 giugno In prima serata Il focus Ospiti di questa sera Monica Cohen Roberto Marcato Guido Rizzo Simonetta Rubinato Marco Saliu Graham Watson E Matteo Zuccol È davvero tutto Per questa edizione Di TG Bassano Io come sempre Vi saluto Ringraziandovi Per aver scelto La nostra informazione E augurandovi Buona serata Sempre su Rete Veneta Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.